Trident è una realtà affermata e ben consolidata della GP2, la categoria propedeutica della Formula 1. In questo campionato il team italiano è esordito nella stagione 2006 con una struttura tecnica ed organizzativa d'avanguardia. La squadra venne fondata da Maurizio Salvadori, personaggio di spicco nel mondo della musica, per aver scoperto e gestito negli anni numerosi artisti a livello nazionale ed internazionale. Salvadori, riuscendo a fondere le sue attitudini professionali nel settore dell'intrattenimento e dell'immagine, con la grande passione per i motori che lo caratterizza fin dalla giovanità, è stato in grado di portare sulle piste automobilistiche un team giovane e dinamico che pone grande attenzione alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, senza però trascurare gli importanti aspetti di comunicazione integrata che differenziano la scuderia milanese dalla maggior parte degli altri team dalla stessa categoria. Questo permette a piloti, partner e sponsor del team di ottenere una grande visibilità in un ritorno di comunicazione da primato. Negli anni, oltre ad essersi aggiudicate alcuni importanti risultati sportivi, come ad esempio le due vittorie consecutive nel prestigioso Gran Premo di Monte Carlo riservato alla categoria, la scuderia è stata riconosciuta dagli organizzatori del campionato GP2 come miglior team per la comunicazione e l'immagine. Inoltre, Trident Racing considera di fondamentale importanza la preparazione del percorso di crescita dei propri piloti, i quali vengono ingaggiati secondo obiettivi a lungo termine e in base alle caratteristiche tecniche che devono essere coerenti con la strategia sportiva del team. Nulla, insomma, è lasciato al caso. Trident ha un obiettivo, che è quello di diventare top team di riferimento in Europa per il passaggio alla Formula 1, e ciò può essere raggiunto solo con grande attenzione per ogni minimo particolare, e dunque l'essenza di Trident Racing è proprio l'attenzione ad ogni dettaglio. Grazie.